La riserva naturale provinciale Ossi WWF Orto Il comune di Bottagone si trova in Toscana nel comune di Piombino in provincia di Livorno Nata grazie al forte impegno del WWF con i suoi 150 ettari è una zona umida molto importante anche per le rotte migratorie degli uccelli La sua caratteristica è quella di essere formata da due zone pallodose adiacenti Una orto di acqua salmastra e l'altra Bottagone di acqua dolce L'oasi è attrezzata con un centro visite dove si possono fare alcune attività Inoltre ci sono molte passerelle e torretti di osservazione Che permettono di visitarla comodamente e di ammirare gli animali da vicino senza disturbarli Possiamo avvistare varie specie di uccelli grazie alle differenti caratteristiche delle due paludi Come Aeroni bianchi maggiori E garzette? Sempre alla ricerca di cibo Cormorani Uccelli di palude con piume permeabili Utili per immergersi con più facilità Ed è per questo motivo che i poli vediamo ad asciugarsi al sole per poter tornare a volare bene Stormi di simpatiche pavoncelle Che portano con grazia il loro ciuffo Spatole Abilissime con il loro becco caratteristico Ama Fo-laghe Tuffetti Ocche selvatiche Molpoche Giulia E cigni reali Molpoche alcuni limicoli tra i quali totani mori e pettegole alcune anatre come alzavole codoni e mestoloni e tra i rapaci il falco di balute ma gli ospiti più affascinanti sono i fenicotteri uccelli magnifici che hanno nel loro comportamento la loro particolarità durante l'evoluzione hanno adattato il becco per filtrare l'acqua alla ricerca di cibo la colorazione tipica si manifesta con l'aumentare dell'età grazie all'accumulo nell'organismo di alcuni nutrimenti che danno quella pigmentazione rosa porpora i giovani sono infatti bianchi hanno in rapporto al corpo le zampe e il collo più lunghe di tutti gli uccelli europei l'impegno di molti ha permesso la salvaguardia di questo luogo che noi oggi possiamo ammirare in tutta la sua bellezza stare in manzo alla natura, fra acqua dolce, salmastro e il cielo ad aspettare il passaggio ravvicinato degli uccelli fa nascere nel cuore una sensazione speciale che vi invito a provare a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti